Come Assessorato alla Cultura sono stata molto onorata di essere presente qui oggi e ho accolto con grandissimo entusiasmo l'invito che mi è stato fatto dalla Presidente, la Dottoressa Gina Barlafante e dal Direttore Artistico Andrea Gallo. Anche quest'anno ripartiamo con 14 appuntamenti presso l'Avitoio Unflaiano di sabato come di consueto. Siamo stati molto soddisfatti nell'aver presentato oggi questa stagione e tantissimi appuntamenti interessanti, solisti provenienti anche da fuori Italia e un calendario, un cartellone che si annuncia molto variegato. Avremo concerti sinfonici, concerti da camera e siamo riusciti anche a recuperare il Festival Beethoven che abbiamo dovuto annullare a causa dell'emergenza sanitaria. Ci auguriamo appunto che possa essere un Festival di una stagione di tutto rilievo e di grande successo e vi aspettiamo all'Avitoio Unflaiano.